Buongiorno a tutti, prima di tutto è inutile dire che siamo contenti di essere al The Hub qua di Bari anche perché molte delle nostre prime chiacchierate sono anche state un po' parallele alla nascita di The Hub a Milano per cui diciamo è un connubio molto costruito e tutto poi in realtà anche Ostello Bello ve lo racconteremo è diventato un po' anche un The Hub, una succursale di The Hub a Milano di situazioni di co-working, di studio e altro. Allora, prima di tutto la presentazione è molto semplice, noi veniamo a condividere un'esperienza, siamo con l'Italia e molti di voi e non saliamo in cattedra, semplicemente vi racconteremo quella che è la nostra esperienza e quella che è stata le gioie, le dolori nel partire con uno start-up anche in quella che dovrebbe essere una delle città di riferimento che è Milano ma vedrete come le difficoltà poi sono molto simili in qualsiasi città d'Italia anche per un po' gli accenni che ha fatto prima Giuseppe. La prima cosa, vi presentiamo un po' Ostello Bello per introdurre che cos'è un ostello e cos'è Ostello Bello in particolar modo. Allora, vai giù, il mio collaboratore Allora, no, ecco, ingresso di Ostello Bello, cosa principale la leggete qui, questa casa non è un albero, questo è il mood principale, è un claim molto importante per noi nel principio proprio sia di imprenditori ma soprattutto di utenti perché quello che non ci dimentichiamo mai è che prima di tutto non abbiamo fatto partire un progetto, abbiamo fatto partire un sogno ed è il sogno di tre persone che hanno sempre viaggiato, hanno sempre avuto gli ostelli come riferimento, entriamo poi nello specifico del perché. Come vedete Ostello Bello è una società composta da tre soci fondatori e nove soci, nel senso che noi tre dal 2009 abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto e abbiamo coinvolto poi altri amici che portavano all'interno della società anche delle peculiarità e delle esperienze professionali che servivano ad arricchire comunque il progetto, quindi oltre a noi ci sono anche, c'è un giornalista, c'è un avvocato, c'è una traduttrice, c'è un'organizzatrice di eventi, c'è la responsabile, una delle responsabili del museo della scienza e della tecnica. Con noi nell'arco di questo ormai più di anni e mezzo, perché ad agosto faremo due anni, siamo partiti noi tre facendo tutto quello che c'era da fare, oggi come vedrete ci sono altre venti persone, altre venti ragazzi di cui almeno l'80% sono ragazzi laureati o che stanno continuando a studiare all'università e soprattutto, cosa molto importante, sono persone contrattualizzate, tutte quante in regola, poi entriamo nello specifico difficoltà con Carlo che è il referente poi all'interno dell'ostello di queste problematiche. Come vedete questa foto è un po' a riferimento, nel senso che chiunque in Italia ha ancora un approccio culturale rispetto all'ostello come una mega camerata, molto caserma dell'esercito, chi di noi ha fatto i tre giorni se lo può immaginare o chi ha fatto il militare sa di cosa sto parlando e cosa è successo? Noi abbiamo studiato semplicemente quella che era la situazione, ma l'abbiamo studiata anche semplicemente ma veramente banalmente nelle nostre riflessioni mentre viaggiavamo e ci rendevamo conto che a Milano, città europea che si sta preparando all'Expo e via dicendo, in realtà è molto più indietro rispetto a molte città della Bolivia, del Perù dove magari io e Carlo abbiamo viaggiato e trovavamo invece strutture pronte ad accoglierci con quel concept che è condivisione. Per chi conosce Milano, quanti conoscono Milano? Tutti più o meno? Ok. Questo è l'ostello e a 450 metri c'è il Duomo. Gli altri ostelli che noi riteniamo poter definire ostelli perché poi nel panorama extraalberghiera a Milano ci sono anche molti che si travestono da ostelli ma non hanno poi le carte in regola. Abbiamo l'accordata che è l'ostello gestito dell'associazione Scout, quindi della Gesci, e l'ostello della gioventù di QT8 che era un po' il fiore d'occhiello a Milano negli anni 60 ed è rimasto tale, quindi il fiore d'occhiello un po' sbiadito della città di Milano per il semplice fatto comunque di essere parte di un ente, quindi poi entriamo nello specifico di che differenza c'è nel momento in cui cerchi di fare imprese e quindi hai bisogno di apportare qualità e servizi e robe in più perché non sei una struttura con persone dentro stipendiate punto e basta ma te sei in prima persona, parte attiva della tua impresa, del tuo progetto. Un po' di cronologia. Primavera 2009 ci troviamo, io torno dai miei viaggi, dai miei otto anni in Argentina con Carlo, abbiamo iniziato a parlarne casualmente a una cena in cui ci siamo incontrati sempre per caso a Buenos Aires, Carlo a sua volta aveva coinvolto Pietro, ci siamo messi insieme, abbiamo iniziato lunghe giornate di chiacchierate e tutto dove si poteva, per cui o a casa di Carlo, a casa mia, in giro e tutto. Il 2010, il 3 dicembre, scelta della location. La scelta è stata un po' fortuita e fortunata perché avevamo già in realtà per mesi lavorato su un'altra struttura, in una zona diversa che è la zona Bovisa, che è una zona un po' in fase di qualificazione per il fatto di avere un'università. Il fatto che dopo sette mesi di grandi ricerche, di lavoro, di problematiche varie con il comune per capire quando si poteva partire con i lavori e tutto, ha con precontratto firmato, 20 mila euro a segno dato, ci viene detto per una piccola postilla che avevamo messo, che per noi era importante, che era mettere nel contratto il fatto di fare comunque attività culturale. Parte della proprietà ha preso al balzo questa occasione per dire ma chi non ci dice che voi magari non apriate un centro islamico o una moschea? Quindi questo è per collegare un po' l'approccio culturale che c'è in generale sugli ostelli. 4 aprile 2011, con tanta fatica, che anche lì entriamo nello specifico quali sono state le difficoltà, riusciamo a partire con i lavori di situazione, i lavori di situazione che vedranno e le vedrete perché poi useremo magari delle foto un po' come diario di bordo e raccontarvi tutto questo. Iniziano i lavori e pochi mesi dopo, lavorando anche noi perennemente nel cantine insieme agli operai, apriamo l'ostello. L'ostello apre con risate generali di alberghi vicini che dicevano cosa da aprite a fare ad agosto a Milano che non ci viene nessuno. Fra il 13 agosto 2011 e il primo maggio 2013, dopo dieci giorni, noi eravamo già pieni. Quindi dopo dieci giorni avevo avuto l'orgoglio di attaccare un cartello sulla porta perché uno dei primi strumenti anche era il fatto che arrivassero gli ospiti mandati dall'ufficio del turismo che con molta difficoltà lavora a Milano. Orgoglio, dopo le risate generali, cartello siamo pieni. Primo maggio 2013, 26.961 ospiti, quindi noi parliamo di un'occupazione molto alta dell'ostello, 7,9 italiani, 92 esteri, 0,01 alieni. Perché probabilmente abbiamo visto di quelle cose, quindi probabilmente molti degli ospiti erano travestiti, ma in realtà erano degli alieni. Andiamo avanti. Un po' di presentazione dell'ostello. L'ostello è una struttura di 900 metri quadri, sono 5 piani che noi abbiamo diviso in due anime. L'anima che si apre la città, perché parte il progetto di Ostello Bello e anche lì entra nello specifico dopo, è quello di aprirsi la città e non creare un luogo chiuso. Quindi di sfruttare un luogo fisico per creare tutta quella viralità di conoscenze che si possono creare fra chi Milano la visita e chi Milano la vive. Quindi abbiamo il piano terra, il piano meno uno, dove si apre la città. In più ci sono anche parti funzionali dell'ostello, perché c'è il bar, la zona della colazione, la reception, è comunicante fra il bar e dove viene fatto il desk, il check-in, in modo che ci sia comunque un'intrescambiabilità e sempre una vitalità dello spazio. Invece avere la receptionist dell'hotel che lì ferma e non si muove deve farti mille chiamate per un caffè, le nostre ragazze così riescono anche comunque a interagire sempre con gli ospiti e si crea sempre quel mood di coccola rispetto ai nostri ospiti. Abbiamo provato anche a fare ristorazione, ci siamo in parte riusciti. L'aperitivo ogni sera, l'aperitivo non è solo per i milanesi, è qualcosa che porta anche molto ai nostri ospiti perché hanno il modo di approcciare sia la socialità un po' milanese nella loro caratteristica dell'aperitivo e anche vorrei far notare che venire in Italia e mangiare con 5 euro un piatto di pasta e una birra non è da tutti. Colazione fino a qualsiasi ora per gli ospiti, da noi in ostello abbiamo cercato di mettere in ostello tutte le cose che ci piacevano o odiavamo delle nostre esperienze di viaggiatori. In ostello la colazione è inclusa nel prezzo, inizia alle 7 e mezza, a mezzogiorno chiaramente la togliamo per motivi organizzativi e anche igienici, se ti sveglia alle 3 chiedi la colazione perché l'hai pagata e quindi hai diritto alla colazione, quindi la colazione da noi non finisce mai. Zone 20, poi entriamo nello specifico anche di questo. Questa è la presentazione di una stanza, quello che abbiamo cercato di fare noi è anche a livello organizzativo, a livello logistico, a livello estetico fare un po' un mix fra la funzionalità, la semplicità e la vivibilità dello spazio, in particolare questa foto è la stanza che noi abbiamo predisposto per i diversamente abili, per cui sono comunque stanze in cui ci si può muovere molto comodamente, letti, grande ricerca sul panorama italiano, li abbiamo fatti rifare, costruire su misura perché ci serviva poter, anche da un punto di vista igienico, non avere cose chiuse ma sempre cassettoni che si possono aprire, pulire e rendere anche funzionale l'utilizzo da parte dell'ospite perché è più comodo di avere un cassettone, metterci la roba e chiudere, non ce n'è, questa foto siamo molto orgogliosi perché questi ragazzi fanno parte di quei primi dieci giorni e questo è quello che noi abbiamo sempre sognato, quello che abbiamo sempre sognato è essere lì, avere aperto il nostro ostello e aspettare qualcuno come noi, qualcuno come noi in particolar modo, questi qua erano dei ragazzi australiani che sono un po' l'esempio tipico del perfetto viaggiatore perché è quello che va a cercare comunque l'ostello, anche se magari preferisce andare in privata ma preferisce vivere la socialità dell'ostello. Tutti i servizi che abbiamo cercato di mettere e che continuano a crescere, che non ci stiamo sedendo, stanno cercando di mettere sempre di più contenuti, sono un po' quelli riassunti e che vedete, una cosa molto importante proprio perché anche poi nei giorni scorsi se ne è parlato un po' del wifi, che in Italia siamo molto molto indietro. Da noi in ostello, grazie al fatto che è scomparsa anche la legge Pisano per cui siamo tutti liberi di accedere a questo mondo che è la rete, wifi è gratuito, senza password, accessibile a tutti quanti proprio perché la guida, quello che poteva essere riferimento prima, la Rony Planet ormai è quasi scomparso, viene ancora utilizzata ma in modo differente, ormai nel nostro ostello vedete sempre qualcuno con tablet, iphone e tutto, per cui non rendere questo servizio sarebbe fare 100 passi indietro. Quanti? Come è un ostello bello? Un ostello bello è musica, cultura e design. Noi abbiamo cercato di creare un luogo che avesse una caratteristica principale, la caratteristica principale era quello di ridare qualcosa alla città, perché quello che stiamo cercando di fare noi è sicuramente impresa, perché crediamo che certi valori vadano riportati in quel luogo che è il mercato dove molti di quei valori in realtà vengono quotidianamente annullati. Quindi raccontarcela fra di noi con altre formule che potrebbero essere l'associazionismo, altre cose per quanto perfette o magari con anche difetti, però non ci permetteranno di fare un passo avanti. Il passo avanti era rompere un tabù e il tabù è dire ok, fare imprese è qualcosa che si può fare. Si può fare e non ha nulla di non etico, è etico nel momento in cui tu l'approcci in modo etico. E il modo etico è anche dire ridò qualcosa, ridò qualcosa alla città, perché la città comunque ha bisogno anche di queste spinte, perché fin quando continuiamo a lamentarci che qualcuno dall'alto non crea le situazioni perfette per i giovani, allora il nostro compito è dire ok, possiamo fare qualcosa in più, qualcosa in più è ridare la città e creare uno spazio, uno spazio che comunque è uno spazio culturale, uno spazio che viene offerto a titolo gratuito a molte delle associazioni presenti a Milano, che siano associazioni di confronto civile, civico, politico, come magari l'associazionismo dei no profi, tutti quei gruppi anche più piccoli che fanno volontariato e non hanno degli spazi di aggregazione, il fatto che Ostello Belo ormai sia diventata la biblioteca dei licei vicino, per cui molti ragazzini vengono poi a studiare nel pomeriggio da noi, per cui l'etico è anche quello, l'etico è ridare qualcosa alla città, al territorio, come etico approcciare tutte quelle regole che devono essere seguite, che devono essere giuste rispetto al lavoro dei dipendenti e via dicendo. Il duro lavoro premia, la soddisfazione di Ostello Belo in un anno e mezzo è quello di aver raggiunto degli obiettivi, degli obiettivi sia numerici per certe cose, ma anche di soddisfazione personale, condivisa noi tre poi con tutti i nostri ragazzi e lo staff, per cui su Hostelworld che è il portale, poi entriamo nello specifico del booking e tutto, Hostelworld come molti di voi sanno è comunque il monopolio del booking, quindi non è il premio che viene dato da qualcuno o da una giuria, è un premio che viene dato dagli ospiti, da quei 26 mila ospiti che sono passati per l'ostello. E volevo farvi notare questo, agosto 2012 Milano, Go City, per cui città deserta, riuscire a vincere un premio rispetto ad altre città o altre strutture che sono fra virgolette avvantaggiate, perché può essere magari un ostello in Sicilia col mare e il sole ad agosto, o Roma e Firenze che comunque hanno una vitalità che Milano non ha, per noi è grande soddisfazione. E riuscire a passare da la prima volta che siamo andati a Dublino, premio come seconda miglior nuova apertura dal mondo su tantissime centinaia e migliaia di ostelli aperti, a quest'anno quattro premi è già ancora di più soddisfazione per noi. Il due loro loro premio era segna stampa. La nostra fortuna, fra virgolette, è quella di aver cercato di lavorare molto sulla comunicazione, che fosse sia quella più nuova, più giovane, che è il social, il social network, la rete, tutto, ma anche l'attenzione nei vari aspetti dell'ostello che è riuscita a trasmettere con le testate, per cui riuscire anche a essere nominati dal The Guardian come uno dei migliori dei ciostelli al mondo, vuol dire che allora un passo in più l'abbiamo fatto. Siamo passati quindi dall'aspetto della comunicazione, della rassegna stampa e tutto, a qualcosa che è molto più democratica e più viva, che sono i commenti su Hostelworld, i commenti su Hostelbooker, i commenti su TripAdvisor. Entriamo anche lì nello specifico perché in questa situazione abbiamo un discorso di filtri perché l'ospite può commentare, perché riceve una mail di conferma al fatto di aver pernottato a una piattaforma, fra virgolette, libera e a volte anche un po' anarchica che è TripAdvisor, in cui chiunque può mettere i commenti. L'utilizzo innovativo dei social network, per noi è molto importante avere un rapporto poi con la gente, perché molti magari pensano, anche grandi aziende, grandi imprese, a farsi la loro paginetta Facebook, se però poi non continui ad avere un rapporto, un interscambio con chi ti scrive su Facebook, chi ti fa i commenti, chi ti manda dei messaggi, a volte semplicemente delle domande, fate il pranzo oggi, cosa cucinate, se non esiste questo interscambio, avere questa pagina non serve assolutamente a nulla, perché è una grande, noi ad esempio non usiamo più in questo momento le varie mail in list, che per molti anni sono state di moda, che è un bombardamento. La cosa democratica è io ti comunico che faccio qualcosa, se vuoi seguimi e noi siamo arrivati a questo numero, se si legge, di 14.313 like e follower che abbiamo su Facebook. Differenziarsi da altre strutture, noi l'anno scorso per premiarci del fatto e per premiare anche la gente che ci ha aiutato a partire, quindi gli utenti come tutta la gente di Milano che è venuta, abbiamo deciso di fare durante la Milano Design Week, che è la settimana più cara in assoluto a Milano per il turismo in cui i pezzi triplicano, per cui c'è gente che magari dorme a Bergamo, a Piacenza per arrivare poi a Milano, noi l'anno scorso abbiamo detto, si può fare il turismo in un modo diverso, si può ospitare in modo diverso, si può non lucrare perché spesso si triplicano i prezzi ma non si triplicano i servizi. Noi l'anno scorso abbiamo deciso di fare una cosa molto semplice, abbiamo dimezzato i prezzi mantenendo o addirittura amplificando i servizi, perché comunque è rivoluzionario immaginare lo stelo in un'ottica nuova del panorama recettivo a Milano come in tutta Italia per tutti i vari aspetti che poi andremo a vedere. E questa è finita di slide. Allora, andiamo all'altra. Noi abbiamo creato tutta una cronostoria fotografica perché ci aiuta a introdurre i vari argomenti. Questo è stato l'ostello. Quello che facciamo adesso è un po' anche presentarvi chi siamo noi. Io sono Nicola, 34 anni, ha giorni, orgogliosamente, visto che siamo qui a Bale, di origine pugliese perché i miei genitori sono di Cerignola. Arrivo in realtà da altro mondo che è quello del cinema, della pubblicità, della televisione che ho fatto e faccio ogni tanto ancora l'aiutologia. Viaggiatore di passione da sempre, da quando ho 14 anni iniziato a usare gli ostelli. Per otto anni me ne sono un po' sbattuto, scusate il termine, di far carriera e quindi vivevo sei mesi a Milano e sei mesi zaino in spalle e da New York alla Patagonia mi sono fatto tutto. Per cui penso di aver vissuto molto gli ostelli e di aver avuto la fortuna poi, nel momento in cui con Carlo e Pietro abbiamo iniziato questo progetto, di poter mettere quell'esperienza di guest che non ci dimentichiamo mai in tutte le nostre scelte. Quindi un po' nello specifico noi abbiamo deciso di attivare e avviare questa impresa mettendo in gioco, mettendo in campo poi le nostre peculiarità e i nostri percorsi. Proprio perché molte cose da sole, siamo un po' i tre moschettieri, per cui siamo messi lì, abbiamo cercato di far partire qualcosa mettendo poi in campo quelli che i percorsi personali permettevano e rendevano poi snella la gestione e la creazione di un qualcosa di contenuti. Quindi in particolar modo all'interno dell'ostello io mi occupo di tutta la parte eventi, quindi la parte che si lega alla città di Milano e seguo un po' tutto, come è che mi definite? L'esteta, no? L'esteta quindi un po' l'immaginario che avevamo immaginato, quindi semplicemente ho fatto da filtro tutte le idee che avevamo nella costruzione logistica estetica dell'ostello. A sto punto io introdurrei Carlo, che iniziando con le slide, visto che la prima parte è molto legata a, ahimè, poveretto Carlo, tutta la parte burocratica che si è dovuto ciucciare, scusatemi ancora ad altro tema, però rendiamo un po' più fluida della cosa che sono accademico, non sono, entriamo un po' nello specifico delle prime difficoltà che abbiamo trovato. Buongiorno a tutti, ciao. Una piccola cosa, noi sinceramente eravamo quasi terrorizzati dal fatto di dover parlare per tre ore più tre ore, perché uno dice ma in sei ore cosa, diciamo, quindi ci permetteremo qualche scursus, un po' per cercare di spiegare meglio, di raccontare in maniera più completa qual è stato il nostro percorso e anche per riuscire a dare qualche immagine di contorno a quello che è la nostra quotidianità con il nostro lavoro. Diciamo che forse non è, anzi non è, dalla ottima presentazione che ha fatto Nicola del progetto, proviamo a soffermarci anche sul quali sono le componenti di idealismo che hanno consentito questo progetto e che ci hanno dato una determinazione necessaria per poter fare qualcosa. Ricordiamo sempre che siamo in Italia, se qualcuno vuol fare qualcosa che esce un attimo dagli schemi, dal precostituito, deve fare una fatica che è dieci volte tanto rispetto a quella che sarebbe normalmente necessaria per fare qualcosa di comune. Io prima di fare questo lavoro facevo l'avvocato penalista, mai scelta fu più azzeccata e gratificante che è lasciarsi davvero alle spalle una quotidianità fatta di avvocati, in primo luogo, e di luoghi dove dovrebbe concretizzarsi l'idea di giustizia, quindi le aule dei tribunali o purtroppo spesso anche gli uffici dei vari pubblici ministeri. Diciamo, dove è nata l'idea? L'idea è nata pian piano perché fin da piccolino sono sempre rimasto affascinato dal mondo degli ostelli. La prima volta avevo 16 anni, dormivo in un ostello di Parigi, a un certo punto in stanza è arrivato un australiano e ho iniziato a parlare con lui per un'ora e mezza. Mi sembrava fantastico il fatto che da quella porta potesse entrare chiunque, davvero chiunque, e potersi iniziare a confrontare, essere reciprocamente curiosi e avere la possibilità di conoscere modi di fare, idee, sogni, anche espressioni linguistiche, poi che magari normalmente tu non avresti l'occasione di incontrare e anche intravedere nella quotidiana idea normale delle nostre esistenze. anche lì, per me è stato un anno dopo a Dublino, mi ricordo che mi sono svegliato una mattina in una stanza di ostello, ero andato la sera, non c'era nessuno, si capiva che c'era qualcuno che dormiva in stanza, però apro gli occhi ed ero circondato da ragazze danesi che andavano in giro a torso nudo. L'avevo trovata sinceramente fantastica come situazione, no ma anche questo per, insomma c'è un idealismo, c'è idealismo e idealismo, questo è un idealismo molto terra terra, non vorrei fare una brutta figura, magari la faccio, però l'avevo trovato estremamente divertente come situazione. Poi c'è stato un preciso momento invece in cui ho detto qui l'ostello va fatto, magari non avevo pensato che sarebbe stato il futuro per me, però volevo fare un ostello. Era stato una volta, avevo fatto diversi viaggi che ho fatto soprattutto in Sud America, ne avevo fatto uno di otto mesi, e questa è un'enorme fortuna ovviamente, non ritengo che sia normale poter viaggiare per un periodo di tempo così lungo. Comunque dopo più o meno sette mesi e mezzo stavo girando il nord della Colombia, sulla costa caraibica, con un gruppo di undici persone. Erano tutti ragazzi provenienti dai cinque diversi continenti e a un certo punto siamo arrivati a un parco nazionale, dopo due settimane che giravamo su una camioneta che avevamo affittato, avevo detto lasciamo qui la camioneta, andiamo dentro questo parco naturale. Devo dire forse in assoluto il posto della mia vita più bello dove abbia avuto la possibilità di dormire. Si dormiva su un isolotto che era isola quando la marea era alta e poi si attaccava alla terra ferma quando la marea era bassa e in quest'isolotto l'unica cosa che c'era era un tetto con la possibilità poi di mettere delle amache con un terrazzo spartano, non immaginate chissà che tipo di terrazzo, semplicemente era una lastra di mattonelle rotte direttamente sull'oceano. La birra arrivava lì portata dai muli durante la giornata perché ghiaccio non ce n'era, elettricità neanche e a un certo punto la sera eravamo intorno a un tavolino, eravamo intorno a un tavolino con tutti questi ragazzi e si diceva ma io dovrei essere a Buenos Aires fra quattro mesi, mi consigliate di fare tutta la panamericana sulla cordigliera andina oppure passare dal Brasile, ma se passano dal Brasile Suriname e Guiana francese come sono? Qualcuno di voi c'è mai stato? E si iniziava a parlare. Ah ma tu da quanto sei in giro? Ah ma io sono in giro da 22 mesi, adesso ho fatto tutto il sud-est asiatico, sto facendo questa parte di Sud America e vorrei riuscire a essere al concerto degli Stones a Copacabana fra due mesi. Ah invece tu cos'hai? Io vi giuro sembrava di essere al G8, no quello era il G8, è inutile che ci raccontiamo tante stupidate, i potenti del mondo erano quei ragazzi lì, gente che poteva decidere ogni giorno dove andare, con chi andar fuori a mangiare, con chi farsi una risata, con chi mettersi all'ombra di una palma, stando attenti ai cocchi che poi arrivano, ma veramente erano, mi sembrava che di aver trovato in un momento, è stata un'impressione, di aver trovato una nuova griglia mentale con cui leggere le cose, gli avvenimenti, la società. E allora diceva ma io voglio riuscire a dare una casa a queste persone, a casa mia, perché sono, vedevo dei sorrisi diversi intorno a me, vedevo degli occhi diversi intorno a me, sentivo una curiosità differente, sentivo anche un altro tipo di diritto che si instaurava tra di noi, un diritto fatto di rispetto, di condivisione, di attenzione reciproca alle aspettative differenti, che erano differenti perché provenivano da culture differenti. E quindi in quel momento per me è stato, ho realizzato, ho visto, davanti a me si è manifestata questa sorta di luce e veramente l'amore per queste persone qui, che sono il popolo dei viaggiatori, ci ha portato poi a fare questa scelta. Perché poi il popolo dei viaggiatori è un popolo che cambia sempre, non sono mai uguali gli elementi che lo vanno a comporre. È affidato al caso, è affidato al vento, come quando si viaggia da soli, che non sai mai poi cosa ti succede, con chi andrai poi fuori a berti una birra e con chi poi potrai liberamente raccontarti e stare ad ascoltare. Quindi diciamo che quello è stato il momento in cui davvero, per me si è, ho detto questo è un sogno. Poi pian piano incontro Nicola dopo un po' di mesi a Buenos Aires con Pietro, mi ricordo la prima volta che erano andati a vedere un posto da aprire a Milano era il 97. Ecco, attenzione, ragioniamo su questo. Perché noi siamo qui a raccontare un'esperienza innovativa. Ora, se tu hai un'idea del 1997 e la metti in atto nel 2011 e la tua idea è ancora innovativa, tu sei molto fortunato. Però è drammatica la situazione. Cioè, solo in Italia può succedere una cosa del genere. State sicuri che in Paraguay, come in Vietnam, se qualcuno ha un'idea buona nel 2013, non è che se la metti in atto nel 2026 risulta ancora innovativa. Questo succede solo qui. Quindi cosa vuol dire? Giusto lamentarsi. Però qui potenzialmente si possono fare tante di quelle cose che in altri paesi non hanno la nostra stessa fortuna. È una sfortuna da una parte, però è una fortuna dall'altra. Poi ci soffermeremo sugli aspetti burocratici e folli della nostra esperienza. Però, quello è, devo dire che io sinceramente non riesco a far nemmeno di pensare. Molto spesso dico, ma va che fortuna che abbiamo avuto. Perché dici, ma la prima volta che siamo andati a cercare ostelli, diciamo, ah ma facciamo un ostello. Ok, ma a Milano cosa c'è? E c'erano sempre quei tre ostelli che c'erano nel 97. Quando in tutto il mondo la situazione cambia. Perché voi dovete pensare che normalmente una grande metropoli europea ha più o meno 15-20 mila posti letto in ostello. A Milano erano 300. Adesso sono pochi più. Questo avviene anche nelle altre città, soprattutto a livello nazionale, secondo noi potrebbero essere aperti ostelli ovunque. Questo lo diciamo non tanto con idealismo, ma con una sorta di pragmatismo dato anche dalla conoscenza dei numeri, degli afflussi turistici. Adesso il Sud Italia è ritenuto una delle top destination a livello europeo. Prima di tutto è la Sicilia. Però c'è un'attenzione verso il Sud Italia che veramente non è paragonabile ad altre aree geografiche in Europa. Lo sto dicendo quindi se qualcuno di voi avesse in mente di fare un ostello da queste parti che lo faccia. Lo dico con sincerità e cercando di spronare anzi a questo. Anche perché poi noi ci troviamo a lavorare in un contesto, però adesso non vorrei affrontare un tema che volevo affrontare dopo, in un contesto in cui tutto ciò che è intorno a noi è realmente fermo. Noi per usare un aggettivo per lo stello, cos'è lo stello bello? Un aggettivo contemporaneo. Intorno a noi invece è tutto fuorché contemporaneo. È tutto fermo a decenni fa. Lasciate stare poi, uno legge i giornali, dice ma è il giornale del 2013 o del 94? No, no, è il 2003. Ah, bello. Però è tutto intorno. Anche la stessa industria alberghiera è realmente ancorata a vent'anni fa. L'ultima volta che l'industria alberghiera milanese è riuscita a rinnovarsi è stata Italia 90. Non penso che qui le cose siano molto differenti. Non so se è peggio, comunque da noi abbiamo anche questa grandissima fuffa che è Expo 2015. Noi ci siamo trovati su articoli di giornale dove ci hanno scritto a Ostello Bello riceverà i fondi per dei nuovi progetti collegati a Expo 2015. Ma non era vero. Ma non lo sapevamo neanche noi. Ah, ma avete preso i fondi? No, a parte che, attenzione, noi non abbiamo preso un euro pubblico per fare quello che abbiamo fatto. Questo è stata sicuramente una fortuna. Questo vuol dire che siamo indebitati per i prossimi 15 anni. Però è anche un orgoglio, visto poi come tutto quello che gira intorno ai soldi pubblici. Quindi anche a dover rendere conto, a dover tenere dei tempi che non si sposano col concetto di impresa, sono qualcosa di completamente diverso. Tu fare imprese in Italia non puoi dipendere dal pubblico. Sì, puoi dipendere dal pubblico se sei la Fiat. Ma se vuoi fare una piccola impresa, una micro impresa, sinceramente noi lo sconsigliamo. Sì, sì. Anche sui finanziamenti, perché poi tu inizi a costruire. Esatto. Arriva la prima tranche e inizia a mettere in piedi un pezzo di impresa. Arriva la seconda e inizia a mettere il secondo pezzo e poi non ti arrivano più. E poi rimani lì come un alloco e nel frattempo ti sei anche indebitato, però devi aspettare che ti arrivino quegli altri soldi. Che comunque poi in un certo modo devi anche ridare. Quindi è effettivamente complicato. Ogni tanto anziché essere un aiuto, sinceramente l'immagine è quella di un aiuto, ma poi nella realtà si concretizza in un percorso a ostacoli che magari poteva essere evitato aumentando il indebitamento, però almeno eri tu padrone della tua impresa. Non devi aspettare sempre che qualcun altro ti dovesse dare la possibilità di andare avanti. Cambiando poi le carte in tavola. Che tu quando metti una firma sei responsabile su tutto, questi altri sembra che non siano responsabili su nulla. Queste sono altre considerazioni che possono essere fatte. Comunque, prima di poi riorganizzare il discorso che andiamo a fare, per cui useremo anche le foto per far vedere fondamentalmente il diario nostro, affrontare gli argomenti da un punto di vista anche cronologico, quindi come si sono presentati man mano che si sono mostrati ai nostri occhi. Passavo la parola a Pietro, che è il terzo dei soci, che racconterà anche lui la sua di esperienza. Ciao a tutti, sono Pietro, sono il terzo socio. Come loro arrivo anch'io da un percorso differente, non nasco né nel turismo né nel ricettivo, nel mondo dell'associazionismo, ma lavorato in economia, Bocconiano, mi occupo, per quello che riguarda l'ostello, mi occupo molto di più degli aspetti della parte finanziaria, barra economica e tutto quello che è stato, appunto, raccontava Carlo, la difficoltà di far parte di questo progetto e in parte ho seguito tutti questi aspetti, dalla creazione del business plan a trovare forme di finanziamento, sia abbiamo provato con soldi pubblici, abbiamo partecipato a un bando, è divertente questo perché si chiamava bando start up giovani imprenditori, partecipiamo, facciamo tutta la documentazione, il giorno in cui escono i risultati ci chiamano, dicono ah sì, siete stati selezionati, però vieni un secondo a parlare, perfetto, che bello, avremo dei soldi, ci presentiamo all'ufficio e il funzionario, dispiaciuto ci fa ragazzi, io vi avviso che appunto voi siete stati selezionati ma da un mese e mezzo la regione Lombardia ha introdotto una nuova normativa per cui dovete prestare garanzie reali anche sui soldi che la regione vi darà, e uno dice ma come, garanzie reali cosa intendete? Ah sì, dovete mettere un'ipoteca su un immobile, e uno dice ma come fa un giovane imprenditore che deve fare una start up a mettersi una garanzia su un immobile se magari l'immobile non ce l'ha? Secondo punto, rendi contazione, ti obbligavano a spendere i soldi in determinato metodo, quindi 10% per la ristrutturazione, 40% per l'addestramento del personale, e uno dice ma io devo rifare un ostello e devo spendere un sacco di soldi per impianti, per riscaldamento, per il condizionamento, la formazione personale, possiamo anche impegnarci noi a formare il personale perché non c'è una scuola di ostellanti, come faccio a distribuire il mio budget in determinati paletti che non rispeccano la realtà di quello che io ho bisogno, e abbiamo detto beh grazie, andiamo in banca, li prenderemo dalla banca, tanto mi chiedono anche loro delle garanzie reali, faremo in modo di trovare come darle, ma non devo spiegare a nessuno come li spendo, agli occhi della gente non ho preso un finanziamento pubblico e soprattutto posso sospenda lì 90% nel ristrutturare la mia struttura, 10% per tutto il resto. Questo è veramente un problema se uno deve affrontare un investimento e far partire un'attività con qualsiasi altra attività, perché comunque non può essere limitato in determinati ambiti, in determinati paletti. Tornando invece al mio precedente, perché è nata l'idea dell'ostello, anche io ho viaggiato tanto in Sud America, ho incontrato Carlo, ci conosciamo dai tempi del liceo e da sempre abbiamo detto proviamo a fare qualcosa insieme, proviamo a fare qualcosa per la nostra città e ci abbiamo messo tanti anni, ma alla fine siamo riusciti a fare questo progetto e speriamo di poterlo anche replicare in tante altre città in Italia, perché secondo noi l'Italia ha bisogno di strutture di questo tipo che accolgano la gente e la facciano sentire non a casa e soprattutto che non abbiano l'idea di essere fregati ogni volta che fanno qualcosa, devono sentirsi bene, sicuri di loro stessi e essere trattati col massimo rispetto, anche perché appunto l'Italia secondo il mio punto di vista è uno dei paesi più belli in Europa e che può offrire dal punto di vista turistico tantissime attrattive, dalle spiagge alle montagne ai monumenti e ai luoghi di interesse culturale, credo che nessun altro paese in Europa abbia la stessa ricchezza che ha l'Italia, per non parlare del lato enogastronomico che è un'altra delle top quality del nostro paese, per cui sicuramente bisogna puntare a investire nel turismo e a far sembrare sempre più bello e invitanti il nostro paese e accogliere le persone e farle sentire come se fossero a casa e non con questa paura di essere fregate ogni volta che si muovono da qualche parte. La mia è la parte più brutta e la parte più noiosa, quella dei numeri e di far tornare questi numeri, per cui non è così divertente, però poi approfondirò anche io parte del mio lavoro, sarà la parte più noiosa se poi vi alzate e andate, non m'offendo però quando si parla di numeri. Ok, proprio perché entriamo nel discorso dei numeri, prima di passare alla prima foto, che è quella più fortunata, che è, abbiamo trovato lo spazio, inizieremo i lavori, vi introduciamo un po' quella che è stata la difficoltà, che è quello di capire, ok, vogliamo partire con un ostello, Pietro intanto si mette e poi vi farà vedere un po' come abbiamo costruito il nostro business plan, però è capire, ok, vogliamo fare un ostello, ma come si fa un ostello? Questo è stato il primo, primo step da superare, che è quello di capire dove mi colloco in tutto il mondo della giungla burocratica e cerco di capire come poter fare le cose bene, perché una cosa che ci ripetiamo sempre fra di noi e in tutte le occasioni in cui, anche più informali davanti a una birra, raccontiamo il progetto ostello bello e tutte le evoluzioni dello stello è che noi viviamo qualcosa di bello, di bello e difficile, il bello difficile è vivere le cose fatte bene e avere la possibilità o anche il lusso di fare le cose fatte bene, per un motivo culturale, per un motivo formativo, per un certo tipo di know-how, per un certo tipo di background inculcato magari dalle nostre famiglie, da tutto quello che abbiamo vissuto, quindi la difficoltà di fare le cose sempre in quel mondo che è la legalità e a volte quella legalità diventa poi l'ostacolo, come un po' abbiamo accennato e raccontato, proprio perché fai fatica a poter fare le cose fatte bene, quando le vuoi fare, perché ci possono essere complicazioni semplicemente conoscitive da chi diventa il tuo referente magari in un ufficio, diventa difficile perché vivere le cose in una legalità diventa anche un impegno economico quando vuoi fare le cose fatte bene e quindi dare uno stipendio, una dignità lavorativa alle persone che collaborano con te, quindi anche un costo, che è quello che costa il lavoro, di cui tutti quanti conosciamo perché magari siamo persone senza lavoro o dipendenti o perché magari siamo persone che le buste paghe e le fanno. Quindi il primo step più difficile è stato quello, ok, vogliamo aprire un ostello, quindi siamo entrati in questa giungla, come la definiamo noi, del conoscitivo, cioè di scoprire ok, vogliamo fare un ostello, raccontateci o diteci come fare un ostello, perché il nostro coetaneo in Germania che vuole fare qualcosa va in quello che è uno sportello unico, presenta il proprio progetto, dopo 30 giorni gli viene ridato indietro con le cose da fare, cioè semplicemente fai queste cose e il tuo progetto si realizza, no? In Italia invece, se voi vi ricordate un po' il cartone Asteris e Obelis quando fanno impazzire che vanno in giro per la casa, ecco, noi più o meno abbiamo vissuto la stessa cosa, la fortuna è che avevamo in tre, quindi tipo dei Marines con gli orologi sincronizzati, ci buttavamo negli uffici, ogni giorno andavamo magari nel nostro ufficio a cercare di capire come fare un ostello, e così è stato, cioè noi abbiamo potuto iniziare a immaginare concretamente di fare l'ostello come impresa, perché per modo molto fortuito ero nel Comune dopo 20 volte che andavamo a chiedere a quello che è l'ufficio predisposto del Comune di Milano per fare l'ostello in cui ricevamo informazioni delle più disparate, in cui anche chi deve darti un regolamento non sa qual è il numero esatto del regolamento da darti, in modo fortuito ho scoperto che finalmente nella regione lombardia e il Comune di Milano permetteva alle imprese, ok, quindi fare impresa, alla costruzione di un ostello, quindi si superava quel primo step che noi avevamo avuto come difficoltà nell'immaginarci, ok, facciamo un ostello, prima di tutto, chi siamo? Cosa siamo per aprire un ostello? Vogliamo fare l'associazione, vogliamo trovare un altro spedimento, un altro modo? No, vogliamo fare impresa, ok, in questo momento non è possibile fare impresa. Succede che invece io, capitando per caso nell'ufficio del Comune così, perché sto facendo altro, vado a chiedere, finalmente la regione lombardia è stata sempre un po' fra virgolette avanguardia anche rispetto ad altre cose stranamente, permette finalmente di rompere quello schema per cui l'ostello, come vi raccontavo prima con le foto, un po' come accennava Carlo, fa un passaggio avanti e dice ok, non sono soltanto più gli enti religiosi, gli enti statali e tutto il mondo del no profit a poter gestire i rostelli, ma si può fare anche impresa. Quindi quello è stato il primo step che abbiamo superato, quello di dire ok, possiamo partire e butteremo giù tutto per creare uno statuto e creare una società. secondo passaggio, quello più difficile in cui si poi c'è trascinato probabilmente fino ai giorni, a tuttora i giorni nostri, ok, che cosa dobbiamo seguire come regolamento per poter aprire uno stello? Quali sono le caratteristiche di avere uno stello? Dal punto di vista regionale sanitaria, dal punto di vista edile, mille altre cose, e lì vi assicuro è iniziato il calvario, vi è iniziato veramente il calvario, perché? Perché tu non hai la possibilità di ricevere l'informazione giusta, proprio perché l'informazione che tu hai è sempre a comparti stanni, no? Per cui l'asl edilizia è lì, l'asl igienico sanitaria è lì, fra di loro magari si odiano, perché noi abbiamo sentito dirci da qualcuno fate cose in un modo e qualcun altro ha detto, quelli là sono gli incompetenti, i miei colleghi, non dovete farla così, e tu dici ok, uno, uno di voi, uno solo, ci dica come fare le cose, ok? Penso che a tutti voi è capitato uguale. E lì subentra poi quella fortuna che vi dicevo di avere comunque gli strumenti, di avere gli strumenti culturali, gli strumenti anche conoscitivi di come si legge una legge, non per nulla Carlo ha messo a parte, è vero, il ruolo da futuro grande avvocato nel foro di Milano e ha messo in campo le proprie conoscenze per poter leggere una legge, perché quello è il primo problema, come la leggo? No? Quindi questo ci ha permesso di iniziare a mettere un po' insieme il puzzle, ok? Quindi siamo riusciti a scoprire che finalmente non c'era più una legge dell'85, quella legge dell'85 era stata messa da parte, c'erano delle nuove leggi che però cambiavano un po' le cose, ma ci permettevano prima di tutto di fare impresa, ci creano delle altre difficoltà perché per raggiungere un concetto nuovo di qualità venivano ad esempio ridotti i posti letto, per cui non più posti illimitati legati semplicemente magari ai metri quadri, ai metri e altre cose, perché poi vedremo come abbiamo raggiunto. In questo caso direi che Carlo debba prendere la parola perché è lui che si è preso tutta la briga di seguire all'inizio queste cose. Molto velocemente. Raccontiamola con un aneddoto, questa è la cosa che ha detto Nico. Noi abbiamo aperto il 13 agosto, finora abbiamo ricevuto 21-22 ispezioni, che non è poco. Sì, più o meno una volta al mese ci vengono a controllare. È evidente comunque la natura eversiva del nostro progetto e quindi accettiamo di buon grado comunque questo tipo di attenzioni. Arriviamo al terzo controllo dell'ASL. Vi racconto il terzo controllo dell'ASL. ASL edilizia. Ma sì, poi non si è neanche capito se fosse l'edilizia o fosse da un punto di vista sanitario o del cibo. Ha detto un po' di tutto. Comunque, solita cosa. Arriva telefonata. C'è qui quello dell'ASL. Subito. C'è l'ispettore ASL, uno si fionda in ostello. La prima scena che vede ovviamente è una delle ragazze della reception che tira via il suo cane per la coda perché stava quasi smangiucchiando sopra il tavolo della colazione. Iniziamo bene adesso con l'ASL. Comunque, fondamentalmente si rifà fare il giro delle stanze, valuta i metri quadri, valuta il numero dei posti letto e vi farò sapere. Benissimo. Tempo di un mese. Ci arriva un provvedimento del comune di Milano regolarmente notificato in cui si diceva che era l'avvio del procedimento di chiusura di ostello Bello. Ma perché addirittura la chiusura? Niente, fondamentalmente cosa era successo? Noi tutte le volte siamo andati in ASL o in comune e diciamo, scusate ma qual è il regolamento su cui far riferimento per iniziare a delineare quelli che saranno i lavori di ristrutturazione? È il regolamento dell'85. Ah, quello di gene dell'85? Sì, sì. Attenzione, questa risposta è arrivata la terza volta perché è la prima volta. Che regolamento dobbiamo seguire? Le leggi ci sono. Noi poi abbiamo e veniamo a controllare. Se ci piace, va bene. Se non ci piace, ve lo facciamo chiudere. Ah, va bene. Perfetto. Sicuramente erano italiani. No, 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 ma... No, no, ma... No, ma l'atteggiamento purtroppo è quello. L'atteggiamento è quello del... No, l'atteggiamento è il... No, 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 ma anzi, è l'atteggiamento tipico dell'essere umano italiano quando si ritrova tra le mani una porzione di potere che può essere anche minima. Che può essere il... No, ma... Che viene esercitata nello stesso modo dal controllore dell'autobus al presidente del consiglio. È quello. Il fatto di vedere il potere come qualcosa propria. Non mettere a servizio degli altri. Normalmente se uno, nel pubblico, se uno ha un potere è perché deve essere utilizzato al servizio di qualcun altro. Invece in Italia purtroppo è... In questo modo, però non è di questo di cui volevo parlare. Fondamentalmente, diciamo, la terza volta ci viene dato come riferimento quello del regolamento 85. Tenete conto che la spesa che noi abbiamo affrontato, questo è solo per i lavori di strutturazione, è stato superiore al mezzo milione di euro. quindi era notevole. C'erano tutte le nostre vite dentro. Il nostro futuro passava di lì. Non è che puoi pensare a farla poi... Senza pensarci più di tanto e poi arriva qualcuno e te lo chiude. È stato valutato tutto per bene. Quindi la serietà da parte nostra è stata massima. E comunque, tenete il regolamento 85. A lavori di ristrutturazione in corso, senza che nessuno ci dicesse nulla, con noi che continuavamo ad andare presso gli uffici pubblici, scopriamo che c'è un nuovo regolamento emanato a febbraio 2011. Con disperazione prendiamo questo regolamento in mano. Non è stato neanche facile trovarlo. Comunque, mettiamo che ci appare così nelle mani, guardiamo. E notiamo che poi tutti gli interventi che avevamo deciso di fare noi, fondamentalmente si rispecchiavano in quella legge. Quindi era un regolamento anche piuttosto all'avanguardia. Tranne un punto, ovviamente farcito di una notevole dose di idiozia, perché sennò non potrebbe essere una legge appartenente al sistema di fonti di questo Stato. C'era una nuova norma per cui si stabiliva un massimo di sei posti letto a camera, indipendentemente dai rapporti aereo-illuminanti, indipendentemente dalla metratura della stanza, indipendentemente da qualsiasi altro appiglio logico, non più di sei posti letto. Devo dire, io ho un posto da cento metri quadri, no, non posso mettere più di tre letti a castello. E ti obbligano quindi a intervenire facendo dei muri, perché allora la devi rendere più piccola, piuttosto che cose, eccetera, a spendere anche di più. Perché allora, mettiamo per esempio una cosa, io ho uno spazio di cento metri quadri, se io posso mettere solo tre letti a castello, quindi sei letti, per riscaldare o raffreddare tutta quella stanza, spendo un botto. Perché ovviamente invece se io avessi trenta metri quadrati, spenderei di meno e quindi cosa fai? Devi costruire dei muri per spendere meno. Quindi era una legge assolutamente idiota. Noi ci siamo ritrovati con tre stanze con otto posti letto. Questo era l'effetto. Abbiamo tre stanze con otto posti letto, già fatte. Siamo venuti lì, ve le abbiamo fatte vedere, ci avete detto di sì, pensate al regolamento con l'85, non veniva stabilito un tetto massimo, il numero dei posti letto, nessuno ci aveva detto nulla e ci ritroviamo con queste stanze. Sei posti letto, uno dice sono solo tre stanze, no perché due di lì, due di lì, due di lì, sono sei posti letto, se voi fate sei per trenta euro, che è il prezzo a cui noi vendiamo, comprensivo di tutto, dalla prima colazione al welcome drink, quindi è una mezza pensione fondamentalmente, con trenta euro, lo fate, trenta euro per sei, per trenta, vedete quanti soldi al mese sono, che sono almeno due stipendi. Non immaginate che tipo di stipendi, ma per dare 1200 euro a una persona tu ne spendi 2550. Questo è il fatto drammatico. Comunque, ci viene notificata sta roba, lo buttiamo su Facebook, succede, ci chiamano tutti, il giorno dopo ci siamo ritrovati noi tre a parlare con col sindaco, è stata una situazione anche sinceramente tragicomica, perché il sindaco di Milano doveva pensare a tutto forché a questi tre letti a castello in più, sinceramente, e noi mentre lo aspettavamo sembrava di andare a aspettare il preside, siamo trovati in questo stanzone, affrescato, noi tre facciamo questa casa, l'abbiamo fatta grossa, perché poi era finito su tutti i giornali, erano partite mille telefonate, su Facebook ci hanno avuto più di, se non sbaglio, 2000 condivisioni che sono tantissime, lo sapevano tutti, finiti su Corriere, su Repubblica, sul Giorno, poi ovviamente i giornali nemici del sindaco, ah Pisapia chiude Ostello Bello, poi questo poveraccio non sapeva neanche cosa stava avvenendo sotto il territorio peraltro però di sua competenza. E quindi niente, abbiamo messo a posto questa roba, ma la cosa assurda è stato che quando questo è venuto, cioè c'è stato, quando il tipo dell'ASL è venuto, l'ispettore dell'ASL è venuto, con la stagista, esatto, lui ha preso il regolamento insieme a fare il giro, fa, eh no qui non va bene, fa, no come qui non va bene, guardi che c'è il nuovo regolamento, no no, sul regolamento c'è scritto questa cosa, non va bene, voi non avete lo spazio della quarantena, faccio, se no lo spazio quarantena, cioè se qualcuno è malato di metterlo lì, faccio, ma scusi, e dice, scusi ma guardi che fortunatamente è stata eliminata questa richiesta normativa, fa, no c'è qui sul regolamento, guarda il regolamento, ma no ma lei ha il regolamento vecchio, c'è un nuovo regolamento adesso per gli ostelli, quindi cosa è successo? Abbiamo stamattato, stampato il nuovo regolamento e gliel'abbiamo dato all'ispettore, quando gli abbiamo stampato e abbiamo detto guardi però noi siamo fuori legge su questo singolo argomento, il direttore generale della regione è già stato chiamato, perché appena abbiamo saputo il nuovo regolamento, appena abbiamo finito l'ostello, abbiamo chiamato il direttore della regione dicendo guardi può venire a vedere com'è l'ostello, anche perché poi il progetto è piaciuto subito a tante persone, quindi anche politicamente tutti hanno provato a metterci sopra lo zambo, sì sì in modo trasversale in maniera tale da dire ah questo è nostro, questo non è di nessuno, questo è dei ragazzi che vengono qui a dormire tutte le notti e basta, però comunque visto che non siamo completamente degli sprovveduti, abbiamo chiamato il direttore generale e detto venga a vedere il posto e questo ci ha fatto i complimenti, ah ma è un posto bellissimo, dovete trainare l'associazione Ostelli di Lombardia, l'associazione Ostelli di Lombardia è un'altra porcata che hanno fatto a livello regionale, aspetta per questo adesso la racconto, no aspetta, perché tra l'altro comunque punto uno, questo qui non aveva neanche il nuovo regolamento, il nuovo regolamento gliel'abbiamo dato noi, gli abbiamo detto noi quello su cui non eravamo a norma che però da un punto di vista logico non ci sarebbe stato nessun problema accettarlo, ovviamente quella roba lì c'è stata rinfacciata, c'è stata addebitata, voi non potete avere più di totletti per stanza, per una norma che non sapevano neanche che esistesse, ma la cosa assurda è che sui 130 Ostelli di Lombardia l'unico Ostellio a cui si applica quella norma siamo noi, cioè non c'è nessun altro Ostellio in Lombardia che è tenuto al rispetto di quella norma, perché? Da una parte perché ci sono i preesistenti, dall'altra perché quella norma si applica a quelli che non hanno ricevuto i fondi pubblici. La regione Lombardia, mentre noi stavamo costruendo il nostro stello, in maniera privata, prima delle, non le ultime ma le precedenti elezioni politiche, quelle che hanno portato alla quarta elezione di Formigoni, poi si è scoperto con i tempi della giustizia che aveva falsificato le firme, però comunque ha governato lo stesso, è andato 23 milioni di euro a fondo perduto a ONLUS o enti religiosi per fare ostelli e questi qui non erano tenuti al rispetto di quella norma. Quindi non solo non ci, cioè fanno 23 milioni di euro i fondi pubblici buttati via praticamente. L'ultimo stello che hanno costruito, grazie a quella regalia lì, si chiama il Santa Maria di Betlemme. Ora voi pensate a un australiano che arriva in Italia e fa dove dormite? Eh io al Santa Maria di Betlemme ho dormito, ma che figura ci facciamo? Con tutto il rispetto possibile anche per le istituzioni religiose, però l'istituzione religiosa, faccia l'istituzione religiosa e qui ancora bisogna per forza, adesso parliamo di questo, Nicola faceva prima riferimento al fatto che in Lombardia solo, fino al 2011 solo, enti religiosi, enti comunali e ONLUS, no profit, potesse aprire ostelli. Se non ho capito male anche qui in Puglia per il momento è così. Innanzitutto prima cosa da fare è fare un ricorso al TAR, perché questa è violazione. Sì, esattamente, comunque questa è violazione delle norme più elementari della libera concorrenza, ma questo deriva dal fatto che ci sia un'idea culturale per cui gli ostelli non sono uno strumento per fare turismo, gli ostelli sono degli enti assistenziali. Lo dice lo stesso nome, ostello della gioventù, tu ti vedi già il parroco il prete che porta tutti i ragazzi lì, tutti a dormire in questa sorta di dormitorio, di casa, no ma è questo. Non si rendono conto di ciò che passa, di ciò che cambia a livello europeo, a livello mondiale. L'industria degli ostelli è il futuro, cioè ci sarà alberghiero o extra alberghiero. Poi arriviamo a dire qual è la differenza, proprio una sola. In ostello se stai per i fatti tuoi sei un pochino stranino, se in hotel inizi a parlare con tutti sei molto strano. Fondamentalmente è l'idea di condivisione, è l'idea di casa. Tu vai in hotel per farti gli affaracci tuoi, vai dormi, non vuoi essere disturbato e niente. Se hai quell'atteggiamento lì in un ostello invece viene visto come un... perché sei venuto in ostello se non vuoi stare con nessuno, se non vuoi condividere nulla, non sei reciprocamente curioso con le altre persone con cui dividi gli spazi. Insomma, comunque tutto questo era per dire, per fare un piccolo, lungo racconto dell'esperienza con l'ASLA. Per dire la follia burocratica, visto che siamo nel tema, mi sembra giusto rivolgere un pensiero a O e B, che sono i nostri due pesci. Fubi, sì, Fubi, esatto. I pesci rossi, esattamente. Non so se lo sapete, comunque se volete divertirvi io vi consiglio di andare su Google e scrivere Ostello Bello pesci rossi. Ora, cos'è successo? È successo che un giorno si presentano le guardie ecozofile a Ostello Bello. abbiamo ricevuto una denuncia per maltrattamento di animali. Oddio. Arriva lui col cane, fa no, ma il cane sta benissimo. No, no, non è il cane, sono i pesci rossi. Allora stavano guardando, ci sarà una telecamera qui in giro, per questo l'ha presa in giro, è impossibile che stiano venendo per i pesci rossi. Niente, fondamentalmente ci hanno dato 170 euro di multa e il sequestro dei due pesci rossi. Perché? E il sequestro del... Aspetta, perché? Perché fondamentalmente c'è un regolamento comunale secondo cui la boccia ha di vetro, quella a forma sferica. È causa di stress per il pesce rosso perché deve nuotare sempre in circolo. Ora, noi vogliamo bene agli animali e vogliamo bene ai pesci rossi e ci siamo poi resi conto che effettivamente da parte nostra è stata una cattiveria inutile quella di averli tenuti all'interno della boccia. Boccia regolarmente venduta in tutti i negozi di acquari. Sì, sì, ovviamente. Tra l'altro poi i pesci non erano neanche nostri. I pesci li aveva vinti a un'australiana alle giostre, ce li ha mollati lì, ovviamente, nel sacchettino, neanche nella boccia. Ha detto, mettiamoli bene. È anche una rottura di scatole dover pulire l'acqua tutte le volte, il pesce, tirare via i pesciolini. Adesso, alcune cose che... Comunque, fondamentalmente... Gli abbiamo detto, ma ditecelo, piuttosto compriamo l'acquario e mettiamo gli pesciolini. No, no, bisogna intervenire subito. Ma come bisogna intervenire subito? Questi qui sono usciti con la boccia dei pesci rossi sotto la neve. 8 dicembre a Milano. Il pezzi lineale che sta già spettando dentro la vita, perché potrebbe essere una denuncia finale. Sì. Beh, fondamentalmente cosa è successo? I pesci sono stati portati all'acquario civico. È stata pagata la multa. Abbiamo dovuto lavorare per sei settimane per ottenere il riaffido di due pesci rossi. Con tanto... No, scusate. Con tanto anche di colloquio per valutare la nostra idoneità a tenere dei pesci rossi. No, ma questo è l'apoteosi. Tanto lo vedremo dopo il racconto. Cioè, è grandissima come roba. Attenzione, perché poi... Non c'è un lieto fine in questa storia. No. Uno, ci siamo tornati, siamo andati a prenderlo. Tra l'altro, anche lì, andare negli uffici pubblici. Ah, ma c'è questa violazione di qualcosa. Ah, ma cos'è? Maltrattamento animale? Sì, no, ma il trattamento... Guardi che nessuno... Perché poi ti senti un ladro anche, no? In mezzo alla gente. Ah, quello con accusa di Maltrattamento animale. No, dei pesci rossi. Ah, siete voi quelli dei pesci rossi? Eh, sì. Perché poi la cosa aveva fatto il giro della città. Milano è anche un paese sotto quel punto di vista lì, comunque, come cosa. Niente, fondamentalmente andiamo a prendere i pesci rossi. La persona che ha mostrato più affetto nei confronti dei nostri pesci rossi è stata la direttrice dell'acquario. La direttrice dell'acquario, tra l'altro, mille telefonate, anche per poi ha chiamato l'assessore per scusarsi, perché obiettivamente anche lì è finito su tutti i giornali, la radio, eccetera. Era assurda la vicenda, era realmente assurda. E fondamentalmente, quindi, la custode dei pesci rossi, la custode da un punto di vista giuridico proprio, era la direttrice dell'acquario, che tutto voleva, forché, che, turmente, lei aveva in custodia i pesci rossi, qualcosa succedesse ai pesci rossi. Eh, sì, perché poi, comunque, andiamo lì a prendere i pesci rossi, la direttrice dell'acquario, simpaticissima, noi, un dubbio su uno dei due pesciolini che non era lui, l'abbiamo avuto da subito, e gliel'abbiamo detto, ma, secondo me, non è lui. No, no, è lui, fidatevi, fidatevi, perché poi uno era più bianchino, infatti il fatto che aveva perso la pigmentazione, avrebbe testimoniato comunque il regime di stress in cui viveva il pesce. Abbiamo scoperto questo, quando diventa bianco è stressato, quindi occhio al... Ah, tra l'altro, in tutto questo, abbiamo ricevuto minacce di morte, ma roba sua, però poi ci sono gli animalisti. Attenti anche a quelli, no, perché anche lì... Sì, sì, ma minacce di morte è perché tenevamo il pesce rossi. Più che altro, non mettetevi... Cioè, massimo rispetto, se stiamo scherzando, la comica di tutto ciò è che le minacce erano successive a il fatto di avere poi ospitato, sempre a titolo gratuito, per il fatto di essere un luogo aperto in cui anche la conoscenza di qualcosa che tutti vedono come strano, che è la cucina vegana, possa essere messa a espressione di tutti, un mese prima avevamo ospitato Giorgio V. Vendetta, Michela Vega, perché hanno tutti questi nomi qua, in ostello a fare una cena vegana. Di autofinanziamento. Di autofinanziamento, quindi, oltretutto, in ostello bello, se voi venite, chi è venuto in ostello, ciao, ci sono fisse le scodelle per riempire d'acqua per i cani, cioè, per cui c'è sempre stato questo approccio, per cui adesso ci siamo ritrovati poi, per esempio, abbiamo anche dovuto stoppare la forza, no, di Facebook, che era diventato poi, un po', sembrava di essere la trasmissione di Santoro, perché riusciva a fare tutti quegli argomenti, per questi due pesci rossi, di cui uno poi è tristemente scomparso. No, aspetta, ma la cosa divertente è stata che poi, la direttrice, allora, questi qui dovete dare le proteine un giorno, e ci dà il barattone di proteine, e poi quest'altro giorno invece gli date di vitamine, mi raccomando. Perché i miei ragazzi usavano sempre questo, e tu devi darvelo. Sì, sì, questo è per voi, ve lo regalo, ci ha dato due belle bocce di vitamine e proteine, ma ha visto che Nico, che gentile, ma sì, 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 poi il giorno dopo, ma cos'è che, dovevamo iniziare con le vitamine o le proteine? Ma non lo so, adesso leggiamo il coso, scadenza, uno era settembre 2012, e l'altro era agosto 2011, adesso tutta sta storia, per poi cosa? Poi non l'abbiamo detta in giro, perché non volevamo poi sputtanare l'unica persona che era stata gentile ai nostri confronti, se però poi noi siamo quelli che maltrattiamo gli animali, e poi invece il custode, o la custode comunque, gli dà cibo avariato, c'è qualcosa che non va da un punto di vista logico. Io dico questo, adesso scusate la digressione, poi la cosa brutta è che poi quello bianchino non ce l'ha fatta. Però adesso abbiamo la Maserati degli Acquari e ben sei pesci. a quel punto esatto. Tutto qui semplicemente per provare a raccontare in maniera divertente le follie con cui vi troverete a dovervi confrontare. Aspetta che ti faccio raccontare un'altra follia, visto che stiamo entrando nel discorso lavori. Quindi finalmente, come poi Carlo ha specificato meglio di vari passaggi, riusciamo a trovare questa struttura, quindi via Medici, qua la struttura perché il location manager è Piedro, Piedro è quello che sguinzalliamo sempre per cercare cose anche fuori e tutto. Troviamo la struttura di via Medici, dobbiamo iniziare i lavori, perché serve comunque una struttura che è vuota, adesso la vedrete, vedrete il racconto. E lì inizieranno poi anche un po' di cose divertenti e non. Perché? Perché prima di tutto abbiamo iniziato il lavoro e ci siamo resi conto che dovevamo prima di tutto risparmiare. E una delle voci in cui risparmiare era assistenza muraria. Parola per noi fino a... Cioè, uno era dal boccone, l'altro avvocato, io dal cene, nessuno poi qui in mezzo spero che ci siano gli architetti che magari al volo ha detto ah ma sì, assistenza muraria, che è chiaro. Abbiamo scoperto che assistenza muraria vuole dire fare lo sporco lavoro a posto degli altri per l'elettricista, portare al piastrellista le piastrelle e le varie cose e quello comunque ci aiutava a risparmiare anche perché noi proprio per risparmiare abbiamo deciso di non affidarci a una sola impresa ma prendere... Le varie imprese che si sono dimostrate anche fra virgolette un po' più sensibili a questi tre pazzi che volevano partire con l'ostello quindi riuscite a mettere insieme abbiamo cercato un attimo di coordinare perché a un certo momento mi si è resi conto che forse se coordinavamo noi era molto 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 meglio e ci siamo messi a realizzare quello che è l'ostello questa è la situazione che vedete noi ci siamo trovati con 900 metri quadri da ritrasformare ritrasformare completamente e una cosa molto importante è che questa trasformazione l'abbiamo creata dormendo finché non potevamo iniziare il lavoro le tre mesi dentro cioè noi a un certo punto abbiamo buttato i saccappelli noi tre e dormivamo in ostello perché un po' ah perché avevamo iniziato a pagare l'affitto e quindi volevamo comunque sfruttare questi 850 metri in pieno centro a Milano non facendoci nulla di strano però almeno pagare l'affitto se è lì facciamo le riunioni lì e a un certo punto poi avevamo iniziato a prendere scotch e gessetto e pur avendo un architetto che poi trasformava su carta le nostre riflessioni o le sue proposte scotch e gessetto vedendo cercando di capire questi metri qua i metri qui quanti devono essere e tutto abbiamo iniziato a tracciare noi fisicamente l'ostello soprattutto perché qual è la fortuna di partire poi anche con tutto quello che devono essere dei servizi tutta la parte interna dell'ostello è quello di conoscere cos'è un ostello no? perché spesso c'è gente che si butta in varie cose si apre la gelateria apre la cosa di qua di là ma bisogna saper fare il gelato e capire qual è il problema nel momento in cui metti magari le macchine o altre cose per noi la fortuna era questa la fortuna era aver avuto un campo talmente vario talmente largo di esperienze dell'ostello perché si sono passate le nostre esperienze dall'ostello con discoteca super figo tutto che era tutto bello tutto preciso tutto pulito però magari gli mancava un po' di anima all'ostello un po' più spartano magari in Sud America in cui dovevi farti la doccia attaccando la corrente elettrica per far uscire l'acqua calda o i letti erano quello che erano però magari lì invece c'era un rapporto familiare con chi lo gestiva per cui facevi anche passare il fatto che fosse un po' sporco e mancassero delle cose perché comunque quello che interessava di più era quella socialità quindi questo ci ha permesso veramente di magari scontrarci perché poi immagino che potete immaginare anche voi che essere in tre decidere le cose per cui anche cinque centimetri diventavano discussioni di quattro o cinque ore però devo dire che per fortuna sono servite quelle cose fortuna è anche poi vedrete in altri accendi che faremo dopo che partendo anche molto cioè noi sapevamo di poter riuscire a fare qualcosa eravamo convinti lo stiamo convinti tuttora chiaramente non pensavamo poi di raggiungere magari certi numeri certe cose che fosse sia per il bar che per le stanze quindi ci siamo trovati poi a immaginare anche forse troppo piccoli certi spazi che è una fortuna come ci sono quelli che fanno magari spazi e nomi per immagazzinare immaginizzano immaginizzano ma non fanno poi nulla per cui lavori sono iniziati quindi ad aprile e noi come vedete abbiamo vissuto veramente lo spazio nel senso che noi tutti i giorni eravamo lì e questo ha sicuramente aiutato a correggere il corso d'opera perché è capitato in più occasione di far buttare giù delle strutture di cartongesso già fatte per poterle allargare per poterle rifare quella è stata anche poi la scelta del materiale ha aiutato anche perché è una cosa di buttare giù un muro già fatto una cosa magari spostare di 20 cm in una struttura di ferro del cartongesso e abbiamo parlato molto cioè la cosa è stata anche molto autoformativa e ci ha permesso anche nell'arco poi di quest'anno e mezzo di avere anche un approccio rispetto a una sensibilità rispetto alle spese più ordinarie o più straordinarie come le manutenzioni altri o anche a correggere degli errori fatti ad esempio noi per una scelta di qui si parla anche un po' di ecosostenibilità avevamo fatto la scelta ad esempio di mettere le docce quelle temporizzate ma è errore più grande nel senso che hanno una vita molto difficile per cui quell'idea che tu avevi di risparmiare sull'acqua poi lo spendi più in materiale per rimetterlo a posto in benzina dell'idraulico che viene da Varese perché il nostro idraulico di riferimento la vedete qui quella roba doveva essere anche un po' eco-friendly e diventata invece un massacro più l'acqua sprecata quando si rompe e tutto quindi stiamo ad esempio adesso con la difficoltà di avere sempre per fortuna nostra lo stello sempre al pieno cercando di iniziare a cambiare queste cose però quindi comunque ci ha aiutato molto e veramente una cosa molto interessante e molto bella è che nessuno di noi magari si la trapani in casa mette il chiodo altre cose Pietro poi è molto più attento e più esperto a fare gli assaggi a fare tutto lui e tutto però abbiamo molto imparato e creato un percorso formativo che riporteremo e di cui faremo tesoro nel momento in cui magari ci sarà occasione di ripetere questa esperienza un'altra cosa che vorrei che tu facessi accenno perché è simpatica e rientra sempre anche in una delle attenzioni che quando bisogna avere un ostello bisogna avere è l'aneddoto visto che stanno finendo i lavori della scala perché lì entra invece nel discorso vigile del fuoco eccomi di nuovo fondamentalmente l'aneddoto simpatico che dovrei raccontare adesso si chiama in un determinato modo richiesta di tangente ora è qualcosa di estremamente comune nella giungla dove lavoriamo e dove viviamo vediamo di capire come riconoscere la richiesta di tangente e come noi abbiamo deciso di comportarci di fronte alle richieste di tangente le richieste di tangente c'è sempre se tu a doverla fondamentalmente offrire diciamo andiamo a bere un caffè quando trovi qualcuno che ti risponde in maniera sgarbata che vedi che non fa nulla per aiutarti cosa che invece negli altri paesi europei avviene come diceva Nicola tu vai in Olanda in Germania dici vorrei fare l'ostello in questo palazzo ok vieni con quanti posti letto vuoi cosa vuoi fare ok vieni tra 30 giorni ti diamo il progetto ti aiutano qui no qui cercano comunque di di ostacolarti in ogni modo possibile la scala vigile del fuoco la prima volta buongiorno dovremmo fare un ostello ovviamente dopo una coda tipo di un'ora e mezza per entrare nell'ufficio eccetera andare il primo giorno che c'è scritto sul sito c'è scritto ricevono il martedì poi vai lì il martedì e ti dicono no ricevono il lunedì poi c'è sempre questa roba per cui non è mai il giorno dopo una settimana la perdi comunque quando scopri una roba e l'altra torni il lunedì e dici cosa dobbiamo fare per fare l'ostello dovete fare A B e C A perfetto va bene andiamo lì con l'architetto si cerca di mesurare ma andiamogli a chiedere quest'altra cosa che non vorrei essere che poi essere che noi sbagliassimo su questo argomento su questa cosa vai lì il giorno dopo il giorno dopo una settimana se hai fortuna e gli dico no voi dovete fare B C e D A ma quindi A no no chi è che vi ha detto di fare A no scusi no perché stanno spendendo un botto di soldi per fare A quindi vai una volta dopo è D e F allora dici aspetta anche perché il nome della sicurezza ti possono chiudere quando vogliono ancora ancora l'edilizia il posto letto in più la cosa ma sulla sicurezza ti legnano bisogna stare attentissimi la prima roba che bisogna guardare quando uno cerca di avere un di figurarsi un ostello all'interno di una struttura un qualsiasi tipo di attività ricettiva e non anche se volete aprire il bar le uscite di emergenza e le vie di fuga quella è la prima cosa da controllare sempre perché sennò poi ti possono far chiudere in nome della sicurezza che è anche giusto poi vediamo come vengono applicate quelle norme da noi c'era una scala che c'è tuttora fortunatamente la scala fondamentalmente è via di fuga per i tre piani superiori quelli adibiti a ostello abbiamo cinque piani abbiamo detto i due sotto aperti al pubblico e i tre sopra invece per per le stanze avevamo trenta persone a dormire nel primo piano 20 persone a dormire nel secondo piano 10 persone a dormire al terzo piano una sessantina di posti letto funziona moduli cose adesso la faccio un po' più breve fondamentalmente il problema cos'era? che la scala che andava dal secondo al terzo piano secondo i vigili del fuoco non andava bene perché non riusciva a portare insomma la scala doveva essere larga 120 cm per poter portare 60 persone tra il secondo e il terzo piano quella scala era di 114 cm ora se dal terzo piano al secondo piano se l'uscita di emergenza è sotto quante persone dovranno passare? 10 loro volevano che passassero 60 persone perché quelli del primo piano e quelli del secondo piano in caso di incendio cosa fanno? prima vanno tutti su e poi vanno tutti gli altri e poi vanno giù questo tra l'altro ripetisco per 6 cm 6 cm è così noi abbiamo dovuto tirar giù la scala e rifarla costo dell'operazione 25.000 euro questo perché perché lì ti è stato chiesto ma come facciamo ma se volete c'è il consulente nostro che eccetera è un ex vigile del fuoco ho capito 16.000 euro 16.000 euro contro 1500 euro del consulente che noi abbiamo scelto no ma poi in ogni caso comunque anche lì poi ci hanno detto che non andava bene dopo che ne abbiamo tirato giù la scala era fatta di 4 cm in più perché fino a 118 allora c'era la tolleranza quindi era 4 cm alla fine quello che non andava bene e quello lì era una richiesta di tangente perché fondamentalmente ah ma non posso conoscere il consulente questo è esperto questo te la può mettere a posto cosa vuol dire un po' di soldi lui un po' di soldi d'altri vigili del fuoco e la cosa si è andata a posto così e l'abbiamo speso di più però ma questo per non dover perché poi comunque non finisce mai non finisce il problema è che quando e appunto è quello il fatto è quello il fatto perché poi comunque sei sempre sei sempre esposto al ricatto è drammatica questa cosa ma avviene nel nostro paese nel meridione come nel settentrione è sì ma è apprezzabile ovunque sul nostro territorio e questo è qualcosa a cui bisogna fare attenzione nel momento in cui si vuole avere un'attività non tanto uno può dire ah no la legalità quindi lasciate stare alcune cose va bene ma lasciate stare la legalità è per non essere la possibilità di poter lavorare in maniera libera per il fatto di non dover poi rendere conto a nessuno il fatto di non dover stare a ricatti per questi poi verranno e riverranno e si ripresenteranno ancora e qualcosa che non va lo trovano sempre il pesce rosso no però qualcosa che non va avendo ritorna sempre inesorabile il discorso il discorso sul sulla gestione del potere perché è sempre quello che rientra come discorso perché poi comunque questi arriveranno hanno una giungla possono attingere a qualsiasi tipo di norma c'è una norma su tutto su come deve essere la parmigianera su come deve essere il posto dove tieni le mele che non devi tenerle insieme all'arance cioè il fatto l'idiozia abbiamo dei naspi gli idranti antincendio abbiamo 5 naspi su ogni piano idranti di 25 metri ma ne bastava uno che ci faccio su e giù cioè noi abbiamo e attenzione hai l'obbligo di metterci il cartellino hai l'obbligo di mettere il cartellino 10x10 che ho scritto idrante ma sei un idiota se io ho una roba grossa così non è che ti devo mettere ah no perché sennò poi ti multano se non c'è il cartellino è una serie di follie io potrei stare veramente qui ore ed ore a raccontare però questo come fino ad oggi pomeriggio esatto comunque questo era per raccontare l'aneddoto della scala e l'aneddoto della scala è esemplificativo su veramente decine e decine centinaia e migliaia di possibilità di cadere in queste in queste buche che sono buche date dalle norme e da chi poi deve far osservare quelle norme stesse io adesso non vorrei fare un discorso che è l'opposto dell'incoraggiamento però invito alla consapevolezza riguardo a ciò e basta noi abbiamo vissuto poi l'assurdo nel momento in cui poi l'ultimo controllo è stato fatto e la fortuna è stata la fortuna oppure anche la cosa comica che è arrivato l'ingegnere che era poco più grande di noi uno che va per ostelli e che senza neanche troppi complimenti ci ha detto che avevamo fatto anche forse troppo poi non è l'occasione per dirgli che forse erano i suoi colleghi che ci erano un po' obbligati a far troppo però questo è quindi l'ostello non finito o meglio finito in tutto e per tutto però con arredi ancora da fare perché ritornando al discorso etico e un po' poi di vari accenni alla costruzione del nostro business plan noi abbiamo fatto ad esempio una scelta molto importante che è quella di destinare gran parte del budget che avevamo messo alla voce arredi in altro quest'altro ad esempio è la ricostruzione la ricostruzione completa dell'ascensore perché non avevamo utenti serie A e utenti serie B avevamo utenti punto e basta e quindi l'ascensore che noi avevamo che era preesistente non permetteva oltre a entrare in alcune stanze come posizionamento delle porte ma soprattutto non permetteva ai diversamenti abili di viversi in piena autonomia tutto l'ostello perché noi avevamo uno spazio sotto in alto come vedrete poi nelle foto abbiamo la cucina a disposizione degli ospiti terrazzi per cui abbiamo deciso di destinare parte di quel budget che avevamo messo nella voce arredi per la ricostruzione di questo ascensore e mai cosa fu perfetta perché una settimana dopo aver aperto l'ostello arriva il primo ospite statunitense su una carrozzina il quale ci fa i complimenti perché neanche in un paese all'avanguardia come gli Stati Uniti ha trovato realtà in cui si sentisse veramente a suo agio e comodo nel potersi spostare e vivere la stanza e il resto prima di iniziare questa è una foto scusate simpatica perché quello vi dicevo questo è stato poi l'ultimo momento in cui abbiamo visto l'ostello tutto smontato e tutto perché anche lì per risparmiare perché tanto a volte basta veramente poco per risparmiare che è semplicemente arrottolarsi le maniche della camicia a noi non hanno chiesto una cosa come intorno ai 15.000 per smontare 27 per smontare tutto quello che era preesistente perché erano uno show di arredamenti quindi in realtà si trattava di togliere la moquette togliere le contosuffittature e altro e invece si è messi noi e abbiamo iniziato a smontare questo è lo spazio che andava tolto questo andava tolto quindi si è messi noi e abbiamo iniziato a smontare un po' un po' tutto vedete questo spazio ve lo faremo vedere come è diventato scelte questo era il preesistente quindi si trattava di togliere tutto è perché il capodanno era prima di iniziare a smontare noi abbiamo affittato abbiamo detto ok abbiamo iniziato a pagare l'affitto abbiamo fatto una festa per i nostri amici in realtà amici tanti sono diventati enormi come quantità perché abbiamo fatto un capodanno per 400 persone con l'intervento a spegnere un incendio con le bottiglie d'acqua e chiamare i vigili alle 5 del mattino quindi no abbiamo iniziato veramente a immaginarci lo stello smontando il preesistente e tutto per poter far partire i lavori vai avanti con la foto ecco noi abbiamo cercato se torna indietro un attimo un'altra attenzione che di accenno e che poi ritornerà poi più avanti quando andiamo a parlare anche dell'aspetto sul territorio e tutto noi abbiamo cercato veramente di mettere le attenzioni massime che voleva dire spendo oggi per non spendere domani o meglio ad esempio quella che vedete abbiamo rifatto completamente la vetrata che dà sulla strada l'ingresso all'ostello come le finestre quindi nuovi serramenti ha per un motivo che per essere ecosostenibili basta veramente avere le attenzioni molto semplici senza chissà quali ragionamenti tecnico-scientifici se ho le finestre che fanno entrare aria le cambio metto le finestre con un vetro con qualcosa di nuovo non mi esce fuori il calore e così già risparmio perché spendo spendo di meno e non spreco il calore e soprattutto abbiamo messo dei vetri da 48 decibel come abbattimento acustico proprio perché abbiamo gli ospiti che dormono vogliamo comunque magari mettere musica e quindi qualcosa di fuori esce e quindi questa era un'ulteriore attenzione sia ai nostri ospiti ma anche attenzione al territorio poi vedete ancora nelle foto noi facciamo sì che la nostra presenza quando noi abbiamo iniziato i lavori sembravamo vedevi la gente che passava ed eravamo i black block del turismo lo siamo stati per un po' e lo saremo ancora quindi vedevi la gente veramente preoccupata per quella questione di cui spesso Carlo ha accennato culturale per cui quando si è sparsa la voce che stavamo per aprire un ostello erano tutti spaventati sembravano che eravamo tutti sporchi uscivamo con sacchi qui non riuscivano neanche a capire esattamente però poi hanno capito che tanto cattivi non siamo quindi il rapporto provvicinato a parte quell'albergo non è buonissimo però questa è un'ulteriore attenzione per cui anche la presenza nel territorio andarsi a posizionare come qualcuno che sta entrando non dico a casa di altri perché è a casa di tutti quanti però essere coscienti di vivere in modo armonico la presenza in qualcosa di preesistente con veramente delle attenzioni che sono minime questo vale per per tutto vale non so a Milano molti si lamentano perché il vicinato o i residenti non riescono a dormire poi vai a domandare mi hai insonorizzato il tuo spazio no fai attenzione che i tuoi utenti stiano attenti magari a non pisciare scusate il termine sulle porte degli ingressi dei portoni a fianco no ok allora non può essere sempre colpa del vicino quindi veramente un approccio anche di autocensura rispetto alle cose ma soprattutto di attenzione a chi c'è già nel momento in cui tu arrivi in un determinato luogo ah questo è un altro aneddoto altro aneddoto dopo le nove visite perché Carlo ha fatto nove visite alcune abbiamo accompagnato io e Pietro per sedarietà perché non ci credevamo perché a un certo punto davamo del pazzo noi a a Carlo ci hanno dato per il discorso sempre di modi comunque ci hanno fatto costruire più porte di sicurezza possibile immaginare sembriamo lo showroom delle porte di sicurezza noi se volete vedere con le sue porte di sicurezza venite a noi che siamo uno showroom porte retro quello che è noi abbiamo costruito abbiamo fatto mettere varie aperture una perché la una è l'ingresso e l'altra che devono essere uscite in emergenza per poi però una volta chiesto di fare quindi su carta tutto farci notare che però essendo la strada di discesa quindi non dipende da noi essendo troppo alto l'umoretto qua queste due porte non possono essere considerate uscite in sicurezza poi siamo fortunati perché su queste due i numeri ci siamo però noi ci siamo ritrovati a spendere soldi per una roba che è anche scusate è anche brutta vedere il maniglione perché sembra di essere veramente infabili che si possi però ci siamo ritrovati con queste uscite di sicurezza che non servono a nulla perché nessuno ha pensato di cui ci dava indicazioni che ci fosse la strada in discesa questo perché dopo i 120 centimetri dall'uscita di sicurezza c'è un gradino che ha un'alzata superiore a 17 centimetri e quindi se il gradino ha un'alzata superiore a 17 centimetri questo va contro comunque le linee guida sulla sicurezza e oltre a questo c'è il fatto che è un solo gradino invece i gradini per essere comunque a norma dovrebbero essere almeno tre non due tre quindi questo cosa vuol dire ci hanno fatto fare un'uscita di sicurezza ma non c'era bisogno oltre a non esserci bisogno perché i numeri comunque non lo richiedevano era una spesa che era tranquillamente evitabile nel momento in cui ci fosse stato un sopralluogo dei vigili viene lì e dice no qui c'è questo gradino e quindi essendoci un gradino non posso mettere un'uscita di emergenza in prossimità di un gradino e invece no tenete conto che più o meno fare ogni uscita di emergenza costa intorno Ivato costa intorno ai 2.100 euro buttate anche questo vai avanti questo è tutto quello che abbiamo smontato i terrazzi anche questi fatti ripuliti ennesima anche qui attenzione a comunque nella scelta anche di posizionare i vari macchinari che sono comunque abbiamo scelto anche cose all'avanguardia abbastanza silenziose e tutto però anche lì attenzione a questa situazione attuale col preesistente del vicinato diceva Pietrone che forse abbiamo il video dei lavori dov'è? su youtube possiamo farvi vedere dopo un po' di robe io sto facendo bisogno di dimostrazione che lavorava io spesiamo le 6.30 perché aveva fatto un po' questo patto quindi voglio le 6.30 intanto non permette esatto rimanendo sui lavori Nicola ha aperto il cantiere tutti i giorni il fatto di poter riuscire a fare quei lavori di ristrutturazione di 5 piani completamente vuoti perché erano tutti open space c'era un bagno adesso ce ne sono 18 non c'era il riscaldamento adesso c'è anche il raffreddamento e fare tutti questi lavori in solo tre mesi e mezzo ce la fai anche lì solamente se hai una grossa determinazione a iniziare quella stessa determinazione che diceva Nicola per cui ci siamo ritrovati a dormire lì dentro nei sacchia pelo per tre settimane per tre mesi giocando con i gessetti scotch di carta a dire ah ma questo muro lo facciamo 5 cm in là perché se uno entra all'interno del posto e allo zaino allora tocca anche dei discorsi fondamentalmente idioti però comunque abbiamo abbiamo fatto quello e niente questo è il video dei lavori che abbiamo fatto però penso che non ci sia l'audio c'è l'audio? ma che si sente da lì? se no ci metti il microfono davanti? grazie grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.